si allontana spesso e non so se riesco a farvelo vedere c'è si allontana molto facilmente è cavolo ci provo a pelle selvatica con antenne lunghe oggi è pieno è proprio pieno non ne avevo mai visto così tante in giro cioè è come se fossero le milifere proprio adesso è andata lì è qui vicino no quella è una milifera no guardate sono complicate queste sono complicate da riprendere perché sono molto veloci eccola qua che si vede bene bene anche se sto comunque zoomando ma un po si capisce riesco a riprenderne come una moribonda da vicino e vive per moribonda e quindi non riesce ad allontanarsi ripeto se sapete il nome scientifico ditemelo perché sono più che curioso vedete come ha la bocca un po gialla questa è molto chiara molto molto chiara antenne lunghissime io ritengo sia un'app selvatica almeno così la trovo almeno così ho letto su internet però è pur sempre internet se qualcuno sa qualcosa di più me lo faccia sapere non so cosa sia questo è un casino non posso fare di più questo io non l'ho mai visto è come se fosse una lumacca però bu molto appiccicosa in mezzo alla terra molto umida quindi che proprio sì stava sotto il terreno terreno molto umido ed è molto appiccicoso vedete come rimane ecco scende dopo un po più tardi non ho mai visto io questa roba qui mai e non ho proprio idea non si muove si rigidisce leggermente così e basta vedete fa questa cosa poi magari se si lascia un po in pace si assottiglia poco poco ma proprio mai mai visto mai visto non so cosa cosa sia e non so cosa sia e non so cosa sia